Sto bene qua, sono contento con anche questo momento, ma anche di prima. Quando io ho andato a Bari, per me è difficile, perché è un'avventura particolare. Io sempre voglio andare in avanti, sempre di più, con la nostra squadra. Io credo in un grande tempo adesso, ma anche fino al campionato. Non devo vedere in avanti di più, perché per me, per esempio, oggi è fondamentale per dopo domani, per la partita, se no, secondo me, questa mentalità non è giusta. Noi sempre vogliamo andare in avanti con questa modalità. Io credo, contro Avelino, andiamo bene. Secondo me, questo campionato è difficile. Ogni partita è difficile. Per esempio, contro Frosinone, era una partita difficile, perché Frosinone è stato la prima classificata. Allora è andato bene, ma è andato bene. Vinto la partita. Poi, la scorsa partita, contro l'ultimo classificato rispetto di loro, per esempio in Olanda, quando, non lo so dov'è, ma sempre, prima la partita giochiamo contro l'ultimo classificato, partita facile. Si rimane, ogni partita è tosta, è difficile. Domenica, è una partita ancora difficile per noi. Mi piace Terzino, giocava sempre Terzino, ma dove il mister mi mette, io andare 100%, sempre a Terzino-sinistra o a centrocampista, non mi interessa, ma io voglio andare 100%. Per noi, lui è giusto, è una persona intelligente, sempre come si dice, sharp, no, preciso. Preciso. Con la nostra squadra, noi abbiamo una grande squadra, tutti sono bravi, ma per creare un team con buoni giocatori, bisogna un buon coach, un coach che è sharp, sempre. è ben organizzato, ben organizzato, la città, no, mi piace Bari, senza neve, senza neve.